Le ultime ore sono forse state le più calde in assoluto da quando il Catania è stato messo in vendita da Polvirenti la scorsa estate. L'abbacco SRL di Claudio Luca sembra infatti fare sul serio e tra ieri e l'altro ieri ha manifestato chiaramente a più riprese di avere l'intenzione di acquistare il Catania. A tenere banco ci sono stati anche e soprattutto i comunicati stampa arrivati dall'una e dall'altra parte, culminati con la comunicazione di Finaria che ha chiarito che in realtà quanto presentato ed inteso dallo studio asciuto e da Bacco SRL come credenziali non coincide con quanto richiesto. In ogni caso poco dopo è stato chiarito proprio dalla Bacco SRL che le credenziali saranno presentate dopo aver capito ciò che necessita effettivamente lo studio Abramo. È probabile quindi che nel corso del contatto tra le parti avvenuto questa mattina si sia parlato proprio di questo e che di fatto la trattativa sia pronta ad iniziare, dato che dall'una e dall'altra parte si è stretto un patto di riservatezza che da questo momento farà calare il silenzio su quanto verrà portato avanti. Pare quindi davvero che si faccia sul serio e adesso si attende di capire se la trattativa avrà risvolti positivi o meno. Intanto sul fronte tecnico Moriero aspetta sempre di ricevere notizie ufficiali sul suo congedo dal Catania, ma è probabile che questo arriverà solo dopo che la dirigenza d'Ostazzurra avrà trovato il nome del successore del tecnico Salentino. Grazie a tutti.